Bene, buonasera, vedete che abbiamo una visione tridimensionale del borgo medievale di Torino questo in realtà per ottenerlo vi insegno adesso come si fa in una pilloletta insomma veloce allora andiamo su una finestra nuova, andiamo su google maps, maps.google.it e qui cerchiamo il posto che desideriamo, per esempio è il castello, anzi borgo medievale, borgo medievale Torino allora vedete che mi fa vedere il borgo medievale che è questo, questa bella foto a questo punto dobbiamo sostanzialmente andare in 3D per andare in 3D occorre cliccare qua sui livelli cliccando sui livelli praticamente se dovrebbe andare in 3D ma vedete che non ci va perché per andare in 3D dovrebbe comparire qui un 3D o un 2D e questa è una piccola cosa che si risolve andando su map e poi altro e mettendo visualizzazione globo vedete che mettendo visualizzazione globo automaticamente compare questa dicitura 3D se clicchiamo 3D vedete che si inclina la vista e poi a questo punto facendo control possiamo praticamente pilotare l'immagine e con la rotellina possiamo avvicinarci vedete che mi avvicino fino ad avere praticamente la visuale che mi interessa che poi la visuale che visualizzeremo sarà poi quella che verrà registrata poi in 3D e verrà portata poi su Blender ora questi sono due passaggini abbastanza semplici ma che non sono facilissimi fate ancora solo un controllo in Google Chrome che nelle impostazioni ci sia l'accelerazione hardware quando disponibile perché così siete sicuri di andare sulla GPU cioè sulla scheda grafica altrimenti potrebbe non rispondere nella maniera desiderata allora questo è tutto per questa primissima pillola del corsicino per spostare un'immagine tridimensionale di Google Maps in Blender grazie per la visione grazie per la visione